Non piangere, Dio viene a visitarti. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici, ben ritrovati. Iniziamo da oggi la nuova stagione 2023-2024 di questo servizio del commento al Vangelo del Giorno. Ormai sono tre anni e mezzo che vi stiamo accompagnando giorno dopo giorno come coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella a darvi una luce, offrirvi uno spunto spirituale come commento alla parola nella liturgia del giorno. È proprio vero quello che l'Apostolo Paolo ha scritto in Romani 10-17 La fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Ecco che noi, giorno dopo giorno, ascoltando la parola di Cristo, cresciamo nella fede. Vi ringrazio anche per tutti quei commenti che ci avete donato nei nostri social in questi giorni di pausa per come questa parola, questo Vangelo, insieme al mio commento, vi stanno aiutando a procedere nel vostro cammino di fede. Grazie davvero. Il Vangelo di oggi è Luca 7-11-17 In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse, non piangere. Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse, ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare ed egli lo restitui a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo, un grande profeta è sorto tra noi. E Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di Lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Amen. Cari amici, siamo al capitolo settimo del Vangelo secondo Luca. Oggi troviamo un episodio importantissimo. Quando Gesù, in questa città chiamata Nain, insieme ai discepoli e alla folla, camminando, si avvicina alla porta della città e vede un corteo funebre di gente chiaramente triste perché portavano un morto, un ragazzo. E a suo tempo, in quel tempo biblico, il funerale e nel corteo stesso la bara era aperta e quindi era visibile il morto. Immaginate, Gesù assiste a questa scena e anche vede la madre. Madre vedova, quindi già addolorata per la perdita del proprio marito, adesso privata anche dell'unico figlio che aveva. una situazione di morte, una situazione non solo di lutto ma anche di disperazione e di scoraggiamento perché lo dice San Paolo che l'ultimo nemico ad essere anientato su questa terra sarà la morte che Cristo già ha vinto sulla croce e con la sua risurrezione. Ma noi abbiamo questo nemico e quando viene nella nostra vita, entra nella nostra casa e quindi i nostri cari ci abbandonano, vanno in cielo, ecco che in noi c'è la disperazione a livello carnale, umano, perché quella persona non c'è più. la vedova soffre, la vedova è disperata, non ha più il marito e non ha più l'unico figlio che aveva. Gesù vede questa situazione e l'Evangelista Luca usa un verbo molto importante in greco, tradotto in italiano, che fu preso da grande compassione per lei. È l'unica volta in tutto il Vangelo, secondo Luca, che viene usato questo verbo. Quindi tenere, avere, provare grande compassione per una persona, dal di dentro. Tanto che, dice la donna, non piangere. Gesù è Dio e esorta la donna a non rattristarsi. Non dimentichiamoci che Gesù è il Signore della vita e della morte, ha il potere sopra ogni cosa. Si avvicina, tocca la bara, i portatori si fermano e dice al ragazzo, ed era un cadavere, perché la sua anima già non c'era più. Gesù ha la capacità di trasformare quella situazione più brutta che noi possiamo vivere nella nostra vita in qualcosa di positivo. Ciò che è accaduto a questa donna è una cosa assolutamente straordinaria. Gesù ha manifestato la mano di Dio, la mano del Padre. Manifesta ancora oggi che tutto è possibile per chi crede in Lui. E pensate che in greco, al versetto 13, l'Evangelista Luca scrive Il Signore fu preso da grande compassione. Il Kyrios in greco. È un titolo cristologico, messianico, che viene attribuito a Gesù soltanto dopo la sua morte e risurrezione dalla comunità cristiana. Quindi Luca ci sta facendo vedere che Gesù è davvero il Signore. È il Kyrios, il Signore della vita e della morte. Colui che ha la capacità di trasformare le tue tenebre in un raccio di luce. In una giornata meravigliosa, straordinaria, dove brilla il sole di Dio nella tua vita. Ecco che oggi, quindi, abbiamo ripreso con questo servizio del Vangelo, io lo chiamerei un TG delle buone notizie. Perché purtroppo quando guardiamo i nostri telegiornali, sentiamo, udiamo e vediamo immagini del male che c'è nel mondo, che c'è nell'uomo. Ed è il male che trionfa. Un suicidio, un omicidio, una morte, un furto, e sembra che tutto finisca lì. Non c'è soluzione. E quindi più guardiamo queste notizie, più, diciamo, guarda come sta andando male. Il mondo è una catastrofe. Ecco il TG delle buone notizie, il Vangelo. E' un angelio, la buona notizia per te e per me ogni giorno della nostra vita. Dio ha la capacità di trasformare la morte in vita. Dio ha la capacità di intervenire nel tuo cuore, nella tua mente, sui tuoi passi, nei tuoi fallimenti, nella tua crisi. Dio può farlo e Gesù è un Salvatore misericordioso. Lui ha compassione di me, dei tuoi problemi, delle tue ferite, dei tuoi limiti. Lui ha compassione ed è il segno più forte della presenza di Dio nella nostra vita. Ecco perché il popolo disse Dio ci ha visitato. Tutta la folla disse Dio ha visitato il suo popolo. Sei pronto ad essere visitato oggi stesso da Dio? Sei pronto a ricevere una nuova benedizione dall'alto? Allora insieme a me apri le tue braccia, le tue mani e digli grazie Signore Gesù. Grazie per il Vangelo di oggi. Grazie per questa parola di vita. Oh Signore oggi non voglio ascoltare altre notizie. Voglio vedere in questi versetti, in questa pagina del Vangelo, che tutto è possibile per te. Che non c'è alcuna situazione nella mia vita che è definitivamente conclusa male. Tu hai l'ultima parola Signore. La morte non ha l'ultima parola. La malattia nella mia vita, la crisi nella mia vita non ha l'ultima parola. E io proclamo che tu sei il Kyrios, il Signore della mia vita, il Signore della mia famiglia, della mia casa, il Signore del mio lavoro. E proclamo che oggi stesso tu vieni a visitarmi. Apro le porte del mio cuore perché tu possa entrare con la tua luce e con la tua vita. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, cari amici, lo slogan di oggi è una proclamazione, è un'esortazione. Non piangere. Dio viene a visitarti. Ricevi questa buona notizia. Questa notizia del Tg del Vangelo di Gesù Cristo che ti accompagnerà tutta questa giornata. La sua speranza. Dio viene a visitarti. Non scoraggiarti. Non tirarti giù. Non disperarti. Perché Dio solo ha l'ultima parola. E la sua parola è compassione, misericordia, miracoli nella tua vita. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Parlami, Signore, ti ascolto. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Parlami, Signore, ti ascolto. Parla, Signore, ti ascolto. Parlami, Signore, a evitare. Grazie a tutti.